Allora Giuseppe, ti abbiamo visto poc'anzi nelle vesti di Madame Stella. Sì, allora ecco adesso in vesti mie anche per metà perché ovviamente normalmente non mi vesto così. Comunque voglio ricordarvi, se volete vedermi dal vivo, potete farlo venendo tutti i venerdì, sabato e domenica al convento con lo spettacolo di Giovanni Nanfa, Si fa ma non si dice, insieme a me c'è Virginia Alba e Massimo Melody al pianoforte. Oppure da domani ci sarà una trasmissione su Telesud che appunto Showcafè, che riprende per il secondo anno insieme ad Aurelia Corsetti, a Gino Carista e tantissimi altri cabarettisti. E poi vogliamo ricordare che il mio cd va benissimo, che si intitola appunto Tutte me le vedo tutte! E potete continuarla a comprare, si si si, comprato, lo potete collegarvi al mio sito internet, insomma Giambrone si dà da fare. Grazie a voi. Allora, nuovamente parliamo ancora una volta con...